Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campos Università, Caseificio Gioia. Amici del Ruggito Neroverde, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, la settima del format dedicato al Bitonto Calcio. Questa sera parleremo della sconfitta del Bitonto sul campo del Molfetta per 3-1, sconfitta che arriva dopo due vittorie consecutive. Poi nella seconda parte di questa puntata ci tufferemo come di consueto sulla prossima gara dei Neroverdi che affronteranno al Città degli Ulivi il nardò di mister Nicola Ragno. Lo faremo con l'ospite che è alla mia destra, vale a dire Luigi Gianfreda, difensore del Bitonto. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Andiamo a presentare anche gli ospiti in collegamento. Questa sera abbiamo con noi Marco Iusco, gradito amico e giornalista. Ciao Marco. Ciao Claudio, buonasera a voi. Poi anche Fernando Pero ha detto stampa, segretario un po' il tuttofare del Nardò. Buonasera Fernando e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere esserci, grazie. E allora parliamo subito della gara che si è giocata domenica scorsa a Molfetta. Partirei con una domanda per Luigi, ne stavamo discutendo anche a telecamere spente. Quando la palla non vuole entrare purtroppo non si può fare nulla. Sì, chiamasi pure un po' di sfortuna, però secondo noi abbiamo richiesto la partita e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Poi un po' di sfortuna, un po' di disattenzioni che ci sono state durante la gara e l'abbiamo pagata gara. Andiamo a vedere allora gli highlights nel servizio di Mario Sicolo della gara giocata al Paolo Poli di Molfetta e poi lo commentiamo insieme anche con gli ospiti. Il bitonto cade ma non frana a Molfetta. Scatta in avanti, viene raggiunto, dissipa una gerla piena zeppa di occasioni e soccombe dinanzi ad una mini succursale neroverde dello scorso anno. Mister Valeriano Loseto propone Petracca fra i pali, la coppia di Occhiuti-Baluardi-Silletti-Gianfreda, Spinelli in cabina di regia assistito da Clemente e Ungredda, davanti il talento lucente di Taurino alle spalle di Palazzo e Maffei. Il collega Renato Bartoli sceglie Calvarese e Panebianco, quali sentinelle di diamè, manzo signore del centrocampo, longo a fiammeggiare sulla fascia, la classe fosforescente di Montinaro al servizio di Coratella. Dopo le canoniche fasi di studio, vantaggio ospite. All'ottavo assist callido di Maffei per il fantasista attascabile, che stoppa e di destro fulmina diamè. Minuto 12, manzo ci prova dai 30 metri, il cuoio si spegne fra le braccia di Petrarca. Un attimo dopo, Montinaro appena dentro l'area a giro, Petrarca si tuffe e blocca. A tre dalla mezza, il destro d'incontro dal limite dell'ex centrocampista Bitontino, non trova il bersaglio grosso. Inzuccata sottomisura di Dimo Dugno al 32esimo sopra la traversa. A dieci dall'intervallo, il pareggio. Corner da destra e inzuccata ferale di Panebianco nell'angolino. A 43esimo, diamè in coraggiosa uscita, contra Palazzo, piatto chirurgico di Ungredda e prodigio del goalkeeper adriatico. Primo di recupero, flipper maledetto in area molfettese, l'artiglio di Calvanese fuffa la chance preziosa a Taurino. A rientro dagli spogliatoi, i leoni continuano ad essere pericolosi, eppure i molfettesi la ribalteranno. Sesto, Maffei per Palazzo, che addomestica per Chiaradia, mancino secco ma altissimo. Poco prima del quarto d'ora, il vantaggio molfettese. Cross distasi da sinistra e Silletti intercetta con la mano. Dal dischetto il numero 10, Fredda Petrarca. Il reggito dei leoni non è tonante come avrebbe dovuto. Minuto 24, svetta Gianfreda, fuori. Poco prima della mezz'ora, punizione dalla tre quarti di Chiaradia. La sfera colpita da Silletti scivola ad un sospiro dal palo. Ancora, palla che spiove dalla bandierina. Destro radente ma frontale del centrale nostro. Diamese a Cartoccia e a Branca Impresa. Al trentasettesimo, Figlioli arpione il cuoio in area e sfolgora, traversa frantumata. Pochi giri di lancette, Gianfreda in corna. L'estremo difensore di casa blocca ancora. A 60 secondi dallo scadere, Tedesco sbatte il cuoio nel sacco e fa 3-1. Dopo la deviazione di Petrarca, sul pallone sbucato chissà come fuori da un criptico acciaccapeste. Ora, urge ricostruire il morale subito. E testa al tremendo Nardò, dell'allenatore del centenario, Nicola Ragno. Marco Iusco, la traversa, l'episodio sullo rigore col tocco di mano, quindi anche la sfortuna. È stato un bitonto appunto molto sfortunato in questa partita. Un bitonto che se commentassimo un incontro di box ai punti, Claudio avrebbe meritato sicuramente ben altra sorte. Di solito si dice che non c'è due senza tre e di sicuro è una partita dove il bitonto avrebbe meritato quel riscatto. Anzi, due stagioni fa, quando c'era mister Valeriano Rosseto, avevo assistito a Molfetta ad un 3-3 pirotecnico. Lo ricordo ancora benissimo. Questa volta non è stata una partita pirotecnica, però sicuramente qualche rimpianto da recriminare c'è, soprattutto per quel pallo da rigore. che a mio avviso non c'era quel pallo. Sicuramente è un episodio dubbio. Luigi, non è arrivata la terza vittoria consecutiva, però sono arrivati comunque gli applausi dei tanti tifosi accorsi al Paolo Poli, sinonimo di un bitonto che comunque continua a fare bene, almeno per quanto riguarda la prestazione. Sì, sì, i tifosi ci sono sempre vicini e questo non ci fa che piacere. Però noi ci siamo impegnati durante la partita con il Molfetta e penso di parlare a tutta la squadra, di aver dato una grande prova. C'è comunque tanto rammarico, proprio perché la prestazione è stata importante. Sì, il rammarico è tanto. Infatti, di rientro dal giorno di riposo eravamo molto arrabbiati, perché il risultato non era quello sperato e quello che avevamo portato in campo. Quindi sì, c'era un po' di amarezza. Rammarico, amarezza anche per Mister Loseto dopo la partita. Allora noi andiamo a sentire le sue parole. Una partita sicuramente beffarda. Una partita dove noi abbiamo fatto bene. Dove noi abbiamo creato tanto, ma non siamo stati fortunati nel realizzare. Partita dove non abbiamo sofferto nulla, se non queste palle buttate in mezzo da parte del Molfetta, dove hanno trovato un rigore che forse nel primo tempo l'arbitro non avrebbe concesso se tra primo e secondo tempo non fosse cambiata la mentalità sua. E poi siamo stati puniti su questa disattenzione difensiva, su una palle inattiva, ma oramai eravamo nei minuti di recupero. Bisogna accettare i risultati e andare avanti. Comunque abbiamo dimostrato ancora una volta che se c'è da giocare a calcio giochiamo. Io dico solo che siamo nel 2022, le cose che succedono in campo e nei risparmiatori devono rimanere là dentro, non sono quel tipo di personaggio che va a lamentarsi di quello che può succedere. Certo è che l'arbitro ha avuto un repentino cambiamento di direzione, c'è poco da fare. Questa è una mia opinione, ma è una mia opinione che rimane mia. Non è influente ai fini del risultato perché alla fine il Morfetta ci ha creduto, ha tirato dentro in area di rigore queste due palle, ha trovato il gol e il rigore e noi non siamo stati bravi pur creando tanto. Certo c'era considerazione, abbiamo fatto una grossa partita contro una buona squadra, contro una squadra che non stava attraversando un buon momento, che ha provato di tutto e ha cercato di tutto ed è stata fortunata nel trovare i gol. e da noi rimane la buona prestazione sulla quale continuare a lavorare in vista di partite dove magari ci si deve credere di più e sperare che si giri meglio dalla parte nostra. Non parlerei di passi indietro perché ripeto la prestazione c'è stata, c'è mancata sicuramente un po' di attenzione nelle due occasioni, quella del rigore e quella della punizione e c'è mancata la cattiveria, come dico sempre sottoporto oppure più cinismo come sempre ci raccontiamo da quando abbiamo iniziato questo campionato. Non mi va di dire ai ragazzi che non hanno disputato una grande partita, sono stati sempre dentro la partita, non sono mai usciti fino alla fine. Hanno lottato su ogni pallone, hanno cercato di riversarsi nella metà campo avversaria, così come hanno fatto e purtroppo non siamo stati premiati nella realizzazione del gol del pareggio, perché poi alla fine credo che il pareggio sia il risultato giusto. Marco Iusco, mister Loseto ha accennato all'episodio del rigore e in generale alla direzione di gara, ma ha anche detto che non bisogna trovare nessun tipo di alibi per questa sconfitta. Ti è sembrato più ramaricato, più arrabbiato per il risultato oppure magari anche più convinto della forza della sua squadra. Conoscendolo Claudio, lo dico quasi sotto voce, secondo me era molto arrabbiato per la direzione arbitrale e si è contenuto, però quando c'è la prestazione un allenatore non è in realtà ramaricato, perché alla lunga le prestazioni poi ti portano fuori dalla zona pericolosa. Non bisogna dimenticare, va ricordato per i tifosi lo sanno, che è stata allestita una squadra molto, molto giovane con qualche giocatore esperto, una squadra diversa dai campionati scorsi e a mio avviso Valeriano Loseto, mister Valeriano Loseto sta facendo già in qualche modo un miracolo. Poi venendo all'andamento della squadra, soprattutto in casa, la squadra ha mostrato anche più sicurezza, benvenga appunto al prossimo appuntamento che sarà in casa, mi auguro che la squadra possa raccogliere ciò che merita e quindi avere quella che è la fame e la cattiveria del suo mister. Magari lo chiediamo proprio a Luigi come era mister Loseto a fine partita, cosa vi ha detto nello spogliatoio? No, il mister era parecchio amareggiato, non si è tenuto a lungo nello spogliatoio perché aveva visto i nostri volti come erano già abbastanza arrabbiati, delusi per il risultato. Quindi non ci ha detto nulla e ne abbiamo parlato il lunedì, il giorno dopo. Parliamo un po' di te adesso. La tua seconda avventura qui a Bitonto, in mezzo anche un'importante esperienza in Serie C. Cos'è cambiato rispetto alla tua vecchia esperienza in cui avete praticamente conquistato sul campo la Serie C? Sì, guarda, non ho trovato un grande cambiamento, è sempre la stessa società che si è comportata sempre in maniera seria e diligente, quindi ho trovato un bel ambiente caloroso e tutto qui. Chiaramente cambia la classifica rispetto magari a tre stagioni fa, però Luigi Gianfreda si sente maturato rispetto a quel campionato. Penso proprio di sì, perché quell'anno ero un under, poi col passare degli anni ho acquisito un po' di esperienza in più e spero di poterla portare in campo e spero di portarla in campo. Come ti trovi invece col mister? Perché soprattutto ultimamente ti sta dando sempre più fiducia in particolar modo dal primo minuto. No, il mister è un mister abbastanza competente, mi piace il suo modo di allenare, è uno che guarda molto l'allenamento, guarda molto se uno si allena in maniera intensa e quindi le scelte che fa durante quando arriva il giorno della gara sono portate dal modo in cui tu ti alleni, quindi mi piace molto il suo modo. Andiamo a vedere la grafica con i risultati dell'ottavo turno del girone HD serie D con il nardò di mister Nicola Ranio, prossimo avversario del Bitonto che ha battuto in casa il Francavilla per due reti a uno il pareggio tra Fragolese e Lavello per uno a uno stesso risultato tra Barletta e Nocerina la vittoria fuori casa della Cavese per uno a tre contro il Gladiator pareggio due a due tra Matera e Casarano il tre a uno del Molfetta sul Bitonto di cui abbiamo parlato sino ad ora la vittoria fuori casa del Martina sul campo della Putiolana tre a uno pareggio uno a uno tra Tim Altamura e Brindisi e il Fasano che continua a volare e vince tre a zero contro il Gravina Marco Iusco risultati importanti proprio a proposito di questo Fasano che continua a stare lì in prima posizione e adesso praticamente non è più una sorpresa di questo campionato No anche se insomma sappiamo tutti che ovviamente la squadra il cittadino di Fasano hanno una grande spinta al Vito Curlo hanno allestito una squadra per poter stare nella prima parte di campionato però è ovviamente ancora lunga perché ci sono squadre come Brindisi ci sono anche altre squadre che diranno la loro fino alla fine lo stesso Nordosta nelle prime posizioni e quindi in classifica penso che è ancora presto però hanno una squadra bella tosta d'altronde comunque il Bitonto pure se ha perso le ha dato fino da Torce eccola la classifica completa del Girone H dopo 8 giornate col Fasano da solo in vetta a quota 18 Cavese 17 Casarano 16 Brindisi 15 e poi Nardò e Barletta a Paiate a quota 14 a Fragolese con 13 punti Gladiator 11 Nocerina 10 poi nella parte destra la team Altamura e il Martina sempre a quota 10 poi c'è il Bitonto a quota 8 7 punti per il Molfetta che dunque si avvicina la squadra di Valeriano Loseto 6 punti per Gravina e Lavello 5 per Francavilla e Matera chiude la graduatoria la Puteolana a quota 3 Marco rimango con te proprio parlando del Bitonto perché prima della gara di domenica magari si pensava che ci si potesse avvicinare sempre di più la parte sinistra della graduatoria e invece si è rimasti nella parte destra comunque abbiamo detto rimane la prestazione però bisogna stare sempre molto attenti alle squadre che sono dietro e la distanza proprio dal punto di vista dei punti è veramente relativa io sinceramente mi sono fatto un'idea nel senso che il Bitonto quest'anno deve vivere la giornata non può fare programmi deve pensare a raggiungere quanto prima la salvezza e magari in ottica futura anche se è impossibile per la filosofia di mister Loseto qualche volta va portata a casa di più il pareggio probabilmente sarebbe stato giusto in questa gara ma anche in altre gare dove forse il risultato andava gestito diversamente però sono sicuro che alla lunga il bel gioco questa filosofia del mister potrà portare risultati non dimentichiamo che quando è arrivato mister Loseto anche se c'era un organico del tutto differente e c'era Nicola Ragno prima di lui il Bitonto l'ha preso dalle ceneri e l'ha portato a disputare anche un playoff quest'anno non lo so se sarà possibile in questo momento è un po' utopico però di sicuro potrà fare una buona opera con questo Bitonto poi magari da dicembre arriveranno anche altri rinforzi per l'attacco per dare una mano a Maffei e questo sarà importante a mio avviso Sei d'accordo con le parole di Marco? Lui ha detto una cosa importante le partite che non si riescono a vincere bisogna essere bravi a non saperle perdere Sì noi dobbiamo ragionare partita per partita portare a casa sempre i tre punti e farlo soprattutto secondo me ora perché poi con il passare con il passare del tempo tutte le squadre vogliono salvarsi tutte le squadre hanno lo stesso lo stesso atteggiamento per salvarsi quindi sarà sempre più difficile fare i tre punti e sono convinto che è meglio farli ora meglio mettersi lì a vincere a portare i tre punti a casa che pensare in futuro di portare a casa i tre punti meglio farlo ora prossima sfida per i bitontini quella contro il Nardò che si giocherà domenica allo stadio Città degli Olivi andiamo a vedere come arriva la squadra di Nicolarano a questa sfida con gli highlights per vedere appunto la vittoria dei Neretini contro il Francavilla per 2 a 1 Torna a vincere il Nardò sul campo neutro e nel silenzio di Ugento a causa della squalifica del Giovanni Paolo II una vittoria che arriva in rimonte che mancava dalla seconda giornata di campionato ma che arriva anche dopo 5 pareggi consecutivi imbattibilità mantenuta per la squadra di Ragno che si conferma miglior difesa del girone con sole tre reti subite e piomba in zona playoff di contro dopo il primo successo in campionato cade nuovamente il Francavilla di De Luca che resta nella zona caldissima della classifica Ragno sceglie la continuità rispetto al pari contro il Gladiator e conferma il tandem Gionai d'Ambro sin avanti con l'inserimento di Polichetti dal primo minuto di contro la fantasia di Nolè al servizio di De Marco per un Francavilla che prova subito a farsi vedere dalle parti di Viola con un tiro dal limite di Melillo la gara è poco emozionante le occasioni latitano da ambo le parti ma poco oltre la mezz'ora ecco la perla su punizione di Marco Nato che dal limite dell'area supera la barriera senza lasciare scampo all'intervento di Viola la replica del Nardò si fa attendere e arriva solo con due conclusioni la prima di D'Ambro la seconda di Guadalupe che non inquadrano lo specchio della porta troppo poco per riequilibrare il match nella prima frazione di gioco ma dopo la strigliata di Ragno negli spogliatoi in campo torna un Nardò completamente trasformato e dopo neanche cinque minuti di gioco ecco il pareggio lancio in profondità per Gionai che salta esposito e beffa con un tocco sotto l'intervento di Maioni in uscita a nulla serve anche il tentativo disperato di respinta dello stesso numero 6 ospite palla in rete e parità in campo preme sull'acceleratore allora il Nardò e Guadalupe a calciare dal limite con Maione bravo a bloccare tutto a terra Gionai da sinistra serve al centro con Maione a respingere il cross profondo ma Fedel calcia alle stelle da ottima posizione si ripete lo schema con lo stesso Gionai da sinistra a servire la corrente Polichetti il cui tocco è contrastato dalla difesa ospite a un quarto d'ora dal termine però arriva l'episodio decisivo sempre il fantasista numero 10 di casa oggi davvero in versione deluxe crossa bene sempre da sinistra per De Giorgi che di testa beffa l'intervento di Vaude e batte l'immobile Maione la risposta a Franca Villa al gol del vantaggio di casa arriva solo con il neo entrato Cordic da sinistra che rientra sul destro impegna Viola a terra ma nonostante gli assalti finali degli ospiti non ci sono più particolari pericoli e il Nardò può così festeggiare il terzo successo in campionato e l'approdo in zona playoff a 14 punti domenica prossima sfida al Bitonto in trasferta mentre per il Franca Villa sarà una sorta di testa a coda contro la capolista Fasano Fernando Pero un Nardò probabilmente dal doppio volto quasi riconoscibile nel primo tempo poi sicuramente sarà arrivata la strigliata negli spogliatoi di mister Nicola Ragno Non è proprio così non è proprio così perché il Nardò ha giocato anche nel primo tempo con un evidente diciamo possesso palla e con i numeri dalla sua parte il problema è che poi le finalizzazioni non hanno reso merito o le mancate finalizzazioni hanno reso merito anche all'impegno messo nel primo tempo naturalmente la squadra di Ragno e lo sappiamo tutti come il mister lo avete anche conosciuto non può permettersi queste pause quindi il Nardò irriconoscibile nel primo tempo direi proprio di no almeno a quanto magari riportano gli highlights o le cronache perché poi le occasioni ci sono state anche abbastanza limpide naturalmente nel secondo tempo la rabbia è stata ulteriore rispetto al primo tempo dove non dimentichiamo era la prima volta in campionato che il Nardò andava giù come risultato quindi finalmente dico io si è vista la finalizzazione che è nata sulla fantasia di Eneo Gionai che praticamente ha risolto da solo nell'impattare la partita e poi ha fatto quel bel cross per la testa di De Giorgi che è stato altrettanto bravo a metterla dentro su VAUG sul difensore ospite detto questo non è stata una partita affatto facile nonostante si incontrava un Francavilla che la classifica dice che ha 5 punti ma la consistenza della squadra è di ben alto livello così come il livello di tutte le squadre è abbastanza assestato sul medio alto rispetto al passato quindi l'abbiamo riconosciuto in tutte le salse tutti addetti ai lavori hanno detto che questo è un campionato fuori dalle righe rispetto al passato nonostante manchino squadre o città di grandi dimensioni tipo Taranto Cerignola Andria che non per loro hanno spiccato il salto in altre categorie manca il Foggia però pur mancando queste realtà tutto il resto e dico tutto il resto ad oggi faccio fatica a individuare una squadra che possa fare fatica anch'essa a salvarsi forse in questo momento la Puta Olana ha qualche difficoltà ma solo a livello dei risultati per il resto vedo un campionato abbastanza livellato Marco Iusco sì scusa mi siete interrotto detto questo comunque la classifica sta già in qualche modo delineando quelli che sono poi i reali valori io parlo della lettura delle partite quelle proprio i 90 minuti noi abbiamo incontrato avversari i quali non ci hanno dato mai segnali di essere avversari irrendevoli o facilmente superabili neanche il risultato della prima giornata con la Puta Olana dove abbiamo vinto per 4 a 1 ci ha dato questa impressione perché poi si sa le partite hanno tutte degli episodi a sé quella tutta da raccontare quella partita veramente fu allo stesso tempo divertente e ci aggiungo fra virgolette ma con molto col tempo che trovo l'aggettivo che sto più a dire è drammatica nel senso che dalla provvedenziale vittoria ci siamo ritrovati sull'1 a 1 e con l'uomo in meno e poi da lì sono nate tante circostanze particolari che poi alla fine hanno portato al risultato largo ma era una partita che poteva avere un destino completamente diverso questo per dire che anche la Puta Olana ultima in classifica non è assolutamente una squadra facile quindi una classifica sì che è vero che si sta delineando ma perché secondo me lì in alto a dispetto della media alta ci stanno proprio delle corazzate cioè le squadre che non faticherei a inserire in un girone di Lega Pro Analisi perfetta e dettagliata la tua Marco Iusco questo Nardò ha subito pochissimi gol in questo avvio di campionato si vede già la mano di mister Nicola Ragno mister Ragno sì appunto lo conosciamo per le sue squadre che fanno un'ottima fase difensiva e poi vanno di solito ad attaccare con i quinti se giocano con il 3-5-2 o diversamente con altri approcci a livello tattico però a prescindere è un è un Ardò che ha vinto quasi il 40% delle partite disputate sin qui e vedo delle ottime individualità perché Gionai se non mi sbaglio il collega l'anno scorso stava a Molfetta e l'ho vista a Molfetta fare cose davvero importanti alla botta da fuori dalla distanza ma è uno che comunque nel gioco non scompare mai perché l'anno scorso quando mi è capitato di vedere più partite del Molfetta era un giocatore che è in grado di illuminare con le sue giocate gli altri attaccanti quindi un giocatore che per il gioco che predilige mister Ragno può essere sempre un faro un punto di riferimento anche quando la gara si mette storta quindi bisogna fare molta attenzione a questo Nardò e cercare di spegnere le verità perché comunque è una squadra molto difficile che tende quasi sempre passate in vantaggio posso dire che il mister non lascia nulla di intentato studia al minimo i particolari è maniacale oltre che essere superstizioso quindi è un sergente a tutti gli effetti gli manca il megafono in campo perché poi non so come faccia a reggere gli allenamenti con quel timbro vocale sempre così alto detto questo la schematicità lo studio ossessivo delle azioni a volte devono lasciare lo spazio alla fantasia e Gionai è proprio il tipo di calciatore che si può incasellare in queste qualità perché come ho detto prima noi col Francavilla abbiamo rimesso in piedi la partita grazie alla sua fantasia e la sua abilità poi a mettere il cross in mezzo gli altri compagni sono sicuramente di un livello tecnico importante ma non hanno la fantasia di Eneo Gionai secondo me che può fare la differenza nel momento in cui la partita entra magari in un vicolo cieco oppure inchiodata o non ha sbocchi offensivi Eneo Gionai sicuramente valore aggiunto del Nardò adesso tornerei in studio per parlare con Luigi di questo Nardò sicuramente lo starete studiando che cosa temete di più secondo me il Bitonto in casa non vorrà fare brutta figura no assolutamente a parte noi non vogliamo mai fare brutta figura quando scendiamo in campo sicuramente il Nardò è una squadra molto preparata con buone individualità e la alla difesa meno perforata del campionato quindi ci stiamo preparando stiamo preparando bene a questa partita l'abbiamo come studiamo studiamo anche noi i nostri i nostri avversari e sappiamo che il Nardò è una squadra abbastanza compatta che si mette lì con con una buona solidità faremo del nostro meglio per portare a casa i tre punti tornerei adesso da Fernando per una battuta al volo sempre riferendoci a mister Ranio che torna a Bitonto questa volta da avversario abbiamo parlato anche di Gionai di contro sicuramente troverete un attaccante come Maffei che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversario sì non solo lui attenzione ci sono anche altri elementi importanti io non dimentico il primo che mi viene in mente è Chiara Dia sono calciatori che possono fare la differenza in qualunque momento il Bitonto è senz'altro una squadra di categoria naturalmente meno preziosa come posso dire di un livello non come gli anni precedenti questo bisogna oggettivamente dirlo perché insomma le ambizioni degli altri anni erano abbastanza dichiarate il livello e la consistenza della squadra lo dimostrava quest'anno il Bitonto dopo un inizio un pochino difficoltoso poi ha avuto la forza di riscattarsi con le due vittorie consecutive nell'arco di quattro giorni e di riprendersi una classifica più consona alle sue qualità come detto prima tra le squadre escludendo momentaneamente la Buteolana che può dare tanto al campionato è una squadra che in questo momento io la trovo imprevedibile il Bitonto perché è capace di tutto non riesco a trovare una costanza ancora di rendimento però ha una pericolosità latente naturalmente come anticipava il Gianfreda che è al fianco tutte le squadre si studiano oggi non c'è nessuno che non conosca neanche il minimo vizio o pregio dell'altra o dell'avversario ci sono i match analyst ci stanno staff che farebbero gola e invidia al professionismo chi vuole vincere questo campionato chi ambisce ad avere un posto nella gloria alla fine naturalmente è strutturato è strutturato e c'è chi c'è il preparato l'atletico c'è il match analyst ci stanno tante figure che fino a pochi anni fa erano solo diciamo nelle fantasie di chi faceva le raccolte delle figurine panini per vedere le squadre di alto rango che si potrebbero permettere tutto questo la serie D grazie anche alla tecnologia ora studia le partite per intero e le partite sono messe a disposizione già dal giorno dopo quindi se c'è una società organizzata fa la differenza e come io oso dire da qualche tempo a questa parte l'organizzazione sono 10 punti in classifica nel campionato almeno è uno dei bomber nascosti della classifica laddove gli altri bomber io li incasello nei calci da fermo perché il calcio ormai lo studio ossessivo delle tecniche e delle tattiche porta anche a questo quindi ci stanno dei bomber fuori campo che sono avulsi dalle tattiche che fanno la differenza il Bitonto credo che sia dotato di queste qualità quindi massima attenzione lo dico naturalmente facendo il tipo di parte grazie grazie a Fernando Pero per il tuo intervento noi siamo quasi in chiusura andiamo a vedere velocemente la grafica del prossimo turno del girone H di serie D con il Bitonto che affronterà come abbiamo detto il Nardò alle 14.30 stesso orario per le altre partite Brindisi contro Afragolese Casarano Barletta Cavese Molfetta Gravina Puteolana Franca Villa contro Fasano Lavello Gladiator Nocerina Team Altamura Martina contro Matera noi ringraziamo Luigi Gianfreda per essere stato con noi questa sera grazie Luigi grazie grazie Marco Iusco ci rivediamo con te e grazie ti abbiamo ringraziato Marco per essere stato con noi questa sera grazie e grazie e grazie anche a Fernando Pero per il suo prezioso intervento da Nardò in bocca al lupo per la partita di domenica sì è stato un piacere consentimi solo una considerazione finale il dispiacere per vedere uno stadio degli Olivi solo limitato a 200 persone perché da Nardò sarebbero venuti in tanti quindi il dispiacere per questo sport un attimino svilito da queste restrizioni che non so quale ragione abbiano d'esse però è solo una considerazione oggettiva la mia in difesa di uno sport che secondo me è tracciato per essere uno sport popolare quindi va difeso questa qualità dell'essere uno sport di tutti di essere il primo sport d'Italia e non da limitazioni nella capienza che forse sì sono necessarie ma andrebbero risolte quanto prima secondo me hai lanciato un messaggio molto importante sicuramente queste restrizioni non sono dovute chiaramente al bitonto calcio comunque assolutamente è un messaggio molto importante era un messaggio oggettivo per lo sport e anche per i diposi bitontini che secondo me dovrebbero avere la disponibilità piena quanto prima del loro stadio grazie grazie a Fernando Pero l'ultimo ringraziamento a voi a voi ospiti che ci avete seguito da casa il prossimo appuntamento con Rugito Nero Verde giovedì prossimo e allora noi ci salutiamo così grazie questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università Caseificio Gioia Grazie a tutti